Iniziamo la rubrica Raccontami un santo che vuole narrarci la storia di un santo. Così come da bambini ascoltavamo la narrazione di un racconto, di una favola, e come eravamo contenti, quanta gioia ci dava sentire il papà, la mamma, la nonna, il nonno che ci raccontava una favola. Quanta gioia ci dava, dicevo, sia perché avevamo accanto delle persone che ci facevano sentire il loro amore e sia per i contenuti affascinanti, belli, che ci venivano proposti. In questa nostra rubrica non racconteremo favole, racconteremo storie vere scritte dalla mano di Dio e dalla corrispondenza di uomini, donne, di bambini, di ragazzi, di adulti, di anziani, di laici, di religiosi, di sacerdoti. Storie vere, storie belle, storie che possono essere definite in modo analogico una favola perché belle, perché piene di luce, non perché inventate, perché sono state scritte con l'inchiostro del sangue di Cristo nella storia della Chiesa di ogni epoca. E adesso narrerò la storia di Nennolina Meo, o se preferite Antonietta Meo, una bambina romana, la cui tomba, sapete, si trova presso la Basilica della Santa Croce in Gerusalemme a Roma, una basilica antica, venerabile, che fu costruita dall'imperatore Costantino, sollecitato dalla mamma Sant'Elena, perché vi si conservassero le reliquie della passione del Signore, dei pezzi della croce del Signore, delle spine della sua corona, un chiodo della sua crocifissione, parte il cartello dove era scritto il motivo della condanna e altre reliquie. Sant'Elena era innamorata di Gesù e della passione di Gesù e destinò il suo palazzo Sessorium affinché si edificasse questa basilica. Bene, la nostra Antonietta Meo riposa ancora lì, all'ingresso della cappella delle reliquie della passione c'è la sua cappellina dove lei riposa e impressiona, se mi permettete, vedere le reliquie che in questa cappellina di Nennolina si trovano, reliquie di lei, rimanenze della sua vita, giocattoli, vestitini colorati, qualcuna delle sue letterine e fa una certa impressione e ci richiama a una superiore armonia il pensare che dinanzi alla cappella delle reliquie della croce che contiene le reliquie austerissime della crocifissione del Signore ci siano reliquie così carine, quasi fanciullesche, ma nel cuore di Dio si raggiunge anche questa armonia e nella storia della Chiesa questa armonia è riflessa. Accanto a un pezzo di legno che vide grondare il sangue del Redentore c'è un giocattolino di una sua discepola vissuta secoli fa. L'opera di Dio è sul Calvario, l'opera di Dio è nella casa di Nennolina. Nennolina nasce il 15 dicembre del 1930 in una casa della parrocchia della Santa Croce una parrocchia che era stata elevata a tale istituzione ecclesiastica qualche decennio prima della sua nascita, da Pio X che avendo osservato che quella zona si stava molto popolando volle che ci fosse una parrocchia affidata ai padri cistercensi che lì avevano l'abbazia e la custodia della Basilica della Santa Croce. Nasce da una coppia innamorata di Dio, una coppia che ha una grande fede. Dicono il rosario ogni giorno insieme questi genitori vanno ammesso ogni giorno insieme. In quella casa regna la sanità, regna l'amore. Papà e mamma sono delle persone normali ma con un cuore innamorato di Dio e quindi buono con tutti. E nutrivano una speciale devozione per la Madonna tanto che voller andare in viaggio di nozze a Pompei. Lennolina quindi nasce in questo focolare benedetto da Dio e ci racconta la sorella maggiore, Margherita, che è una bambina allegra, vivace, che non stava mai ferma. A volte anche birichina come tutte le bambine e la ricorda Margherita sempre pronta a dare una risposta qualora venisse richiamata. Amava molto il canto e durante le giornate, specie quando giocava, la casa risuonava del canto della voce di Nennolina. Ma accanto a questa normalità di una bambina emergeva un grande interesse per le cose spirituali. Nennolina nutriva un grande interesse e quindi un grande amore per Dio, la Madonna, per tutto quello che riguardava le cose di Dio. Ascoltava volentieri quando la mamma parlava di queste cose o il papà o il sacerdote durante la predica o il gruppo di azione cattolica al quale fu iscritta già da piccolissima. e tanto fu presa che decise di scrivere delle letterine a Gesù, alla Madonna. E siccome non sapeva appunto scrivere, le dettava alla mamma. Nell'ottobre del 1934 inizia la scuola materna presso le suore e zelatrici del Sacro Cuore non lontane da casa. E si recava molto volentieri anche quando era presa dal sonno. Lo racconta sempre la mamma o la sorella. attenta, ubbidiente alle maestre e quando le chiedevano se fosse stato ubbidiente rispondeva con questo candore dicendo che se si ubbidisce alle insegnanti si ubbidisce al piano che Dio ha su di noi. Vedete, una bimba di circa quattro anni che parole dice e che luce hanno queste parole. Con i compagni era come tutte le bambine anche se emergeva la gentilezza e l'affettuosità a dire dalle suore, al dire delle suore. Aveva un affetto speciale per i compagnetti. Una suora raccontò che un giorno un suo compagnetto molto irrequieto di nome Michelino fu messo in castigo per una delle sue. Nennolina ci rimase male. Si alzò, andò dalla maestra per intercedere a favore di Michelino ma la suora maestra anche per metterla alla prova forse anche per farla tacere disse io ormai non posso fare più nulla. Può essere la preside che può togliergli questo castigo. La piccola Nennolina chiese il permesso di andare a parlare con la preside e ci andò. La preside fu colpita dal coraggio, dalla disinvoltura di questa bimba e andò in classe tenendola per mano e chiese alla maestra se poteva perdonare Michelino cosa che avvenne. A scuola quindi viveva così passava bei momenti amava molto quando le sole la portavano in cappello. Nei primi mesi del 1936 sempre lì a scuola durante la ricreazione cadde e si fece male al ginocchio tornò a casa con una piccola ferita il ginocchio un po' contuso ma niente di che. Però dopo qualche settimana il ginocchio continuava a farle male. Dio stava permettendo una croce straordinaria per la sua piccola figlia per la sua piccola Nennolina. i genitori la fanno visitare da uno specialista a questo punto. 25 aprile si scopre che c'è un tumore alle ossa e bisogna amputare la gamba sinistra. Un verdetto terribile però per salvare la bambina bisognava farlo. La bambina viene ricoverata 25 aprile per l'appunto operata e quando si svegliò la mamma l'accarezzò e con le lacrime agli occhi disse figlia mia un giorno tu hai detto che se Gesù ti avesse chiesto la mano gliel'avresti data invece ti ha chiesto la gamba che visione soprannaturale questa madre Nennolina le rispose va bene allora ho dato la gamba a Gesù un dialogo di questo tipo ci commuove e ci fa vedere la temperatura spirituale che c'è in questi due cuori che c'era in quella famiglia o se ci fossero dialoghi simili anche nelle famiglie di oggi ma continuiamo il nostro racconto la sorella Margherita a quindicenne all'epoca dei fatti racconta che la notte e l'intervento Nennolina soffrì tantissimo e accanto a lei la mamma e il papà ma quella mamma piena di fede diceva alla sua bambina offri tutto a Gesù sul calvario per la conversione dei peccatori per gli anni del purgatorio e perché non scoppi la guerra di cui già si cominciava a parlare Nennolina accettò ma non tanto per far contenta la mamma ne era convinta dovete immaginarvi infatti che l'anno dopo il 25 aprile del 37 perché lei fu operata nel 36 festeggiò il primo anniversario dell'intervento perché era stato un anno di offerta a Gesù per le intenzioni che dicevamo prima continuò la sua vita riprese la sua vita con la sua gambetta di legno riprese ad andare a scuola ad andare in parrocchia e quando quella protesi che certamente non era raffinata come quelle che oggi si trovano le faceva male usava dire ogni passo che faccio sia una parolina d'amore ogni sofferenza diventava allora una parola d'amore per il suo Gesù per il bene delle anime dopo questi fatti l'abitudine a scrivere o eventualmente a dettare le letterine continuò adesso sapreva scriverle lei ogni sera ne scriveva una che deponeva sotto il crocifisso e accanto alla stato di Gesù bambino che avevano in casa torneremo sulla bellezza di queste letterine ne leggeremo qualcuna ma per adesso ci ricordiamo affermiamo solo ciò le scriveva ogni sera dopo questo intervento volle prepararsi alla prima comunione e indovinate chi fu la catechista la mamma d'accordo col parro e con le suore la mamma le fece da catechista che mamma che mamma e come sarebbe bello averne oggi tante così Nenolina scrive una lettera alla madre superiore della sua scuola affinché possa fare la prima comunione nella loro cappella e magari la notte di Natale permesso che le fu accordato la notte di Natale del 1936 fece la sua prima comunione fu un momento di paradiso per lei ma anche per chi ebbe la grazia di assistervi sempre la sorella Margherita ci racconta che dopo la messa la bambina voleva rimanere in ginocchio per fare il ringraziamento rimase in ginocchio per più di un'ora in ginocchio con quella gamba di legno che spesso le faceva male dopo la prima comunione scrisse queste parole caro Gesù Eucaristia sono tanto proprio tanto contenta che tu sei venuto nel mio cuore non partire più dal mio cuore resta sempre sempre con me Gesù io ti amo tanto io mi voglio abbandonare nelle tue braccia fa di me quello che vuoi oh Gesù amoroso dammi anime dammene tante te lo chiedo volentieri te lo chiedo perché tu le faccia diventare buone e posso avere con te in paradiso lo spirito santo parla in questa bambina di sei anni l'insegnamento ricevuto stato benedetto e suscitato dallo spirito solo così si possono giustificare tali parole nennolina va avanti ma la croce l'accompagna è nata nel territorio della parrocchia della croce e la croce l'accompagnerà misteriosamente quelle reliquie che da secoli ti sono custodite diventano il suo programma di vita il 22 maggio del 37 dovette lasciare la scuola il tumore era progredito e le metastasi si erano diffuse l'aggravarsi alla malattia costringe dunque nennolina a stare molto a casa ed andare spesso in ospedale per le cure necessarie ogni volta che usciva da casa voleva arrecarsi presso una cappella dedicata alla madonna e ascoltate cosa racconta la mamma non rientravamo mai dalle nostre passeggiate se prima non ritornavamo a salutare la madonna e a deporre ai piedi della sua statua il nostro omaggio floriale erano fiori campestri che io raccoglievo negli argeni dei viali e fra gli erbaggi dell'orto dietro l'indicazione di nennolina che con i suoi occhi di lince alla sua sedia a ruote scopriva da lontano e accoglieva poi allegra nelle sue braccia dopo l'offerta dei fiori congiunte le mani recitava le preghierine infine mandando un bacio salutava graziosamente con la manina al suo solito modo diceva ciao madonnina cara per la madonna che vede come una seconda mamma nennolina ha un affetto grande in un passaggio dell'ultima letterina del 2 giugno del 37 così scrive caro gesù di alla madonnina che l'amo tanto e voglio starle vicina che parole dolci che piccolo cuore innamorato di maria le cure mediche a volte erano molto fastidiose ma lei le accettava e accettava ogni dolore con profondo spirito di fede non si lamentava molto anche quando qualche volta piangeva si riprendeva subito per il suo Gesù i suoi dolori non erano esperienze negative ma fiori da offrire a Gesù il 28 gennaio del 37 scrisse caro Gesù tu che hai sofferto tanto sulla croce io voglio fare tanti fioretti e voglio restare sempre sul calvario vicino a te a te e a tua madre a Gesù crocifisso chiedeva sempre il dono della sua grazia e un'altra letterina scrive oggi ho fatto un po' di capricci ma tu Gesù buono prendi in braccio la tua bambina aiutami perché senza il tuo aiuto non posso fare niente che parole che parole forti aiutami con la tua grazia aiutami tu senza la tua grazia non posso nulla sono parole pronunciate da una bambina di sei anni che impressionano che impressionano certamente ma sappiamo chi agiva nell'anima di questa bambina nel maggio del 37 ricevette la cresima fortificata a questo sacramento iniziò il periodo conclusivo della sua vita terrena la mamma ci informa dopo la cresima Antonietta cominciò a peggiorare l'affanno e la tosse non le lasciavano tregua non riusciva più neanche a tenersi seduta e fu costretta a letto si vedeva che soffriva ma a tutti compresa me diceva sto bene magari astento ma volle sempre recitare le sue solite preghierine del mattino e della sera e chiese poi che il sacerdote le portasse alla comunione tutti i giorni e le ore che seguivano alla comunione erano sempre più calme e appena poteva mi chiedeva di scrivere le sue letterine la bambina peggiora fisicamente ma migliora spiritualmente il 2 giugno chiede alla mamma di scrivere una letterina per Gesù caro Gesù crocifisso io ti voglio tanto bene ti amo tanto io voglio stare con te sul calvario caro Gesù di addio padre che amo tanto anche lui caro Gesù dammi tu la forza necessaria per sopportare questi dolori che ti offro per i peccatori che profondità mista ingenuità chiede a Gesù di avvertire Dio padre che lo ama tanto che ama tanto anche lui e mentre dettava queste paroline belle profonde infantili racconta la mamma che fu presa da un violento attacco di tosse che la fece vomitare dopo quest'attacco volle volle continuare a scrivere e aggiunse queste parole caro Gesù di allo spirito santo che mi illumini d'amore e mi riempia dei sette doni caro Gesù di alla madonnina che l'amo tanto e voglio starle vicina caro Gesù ti voglio ripetere che ti amo tanto 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 mio buon Gesù ti raccomando il mio padre spirituale e fagli le grazie necessarie caro Gesù ti raccomando i miei genitori e margherita la tua bambina ti manda tanti baci dietro queste parole vediamo l'opera dello spirito santo certamente come dicevamo ma anche l'opera di quei sapienti formatori la mamma il papà la sorella il padre spirituale a cui si riferisce dopo aver dettato queste parole Antonietta sembrò crollare stanchissima la mamma fu turbata e racconta le stesse che prese questa letterina la cartocciò con rabbia e la buttò in fondo a un cassetto questa donna da madre non reagisce così ed è comprensibile avere dei momenti di debolezza lei che aveva insegnato a soffrire e a offrire a un momento mi ripeto di stanchezza di debolezza veder soffrire quell'angelo di figlia giustifica agli occhi di noi deboli una tale reazione qualche giorno dopo in casa meo si reca un medico di una certa levatura un professore esperto che la visita la visita purtroppo non dà quanto speravano il verdetto della visita non è positivo bisogna ricoverarla di nuovo il medico che la visita è il professore Milani è archiatra pontificio cioè medico personale del papa uscendo il papà di Nennolina il signor meo l'accompagna e dice che la sua bimba è serena prega molto e scrive delle letterine a Gesù alla madonna ai santi l'archiatra era già stato colpito dall'ossia di Nennolina e chiede al papà se può avere una di quelle letterine che magari potrebbe far vedere al papa qualora si presentasse l'occasione la mamma va a prendere guarda caso quella letterina cartocciata con rabbia e conservata in fondo a un cassetto il medico la stira la legge rimane colpito se la mette in tasca e va via capiamo cosa ha fatto questo professor Milani perché l'indomani un delegato mandato da Pio undecimo porta la benedizione del papa ad Antonietta e questa benedizione accompagnata con un biglietto scritto dal professore Milani in cui dice che ha avuto l'occasione di mostrarla subito al santo padre il quale rimase molto commosso e volle farsi presente con una benedizione speciale l'archiatra conclude questo biglietto chiedendo che Nennolina preghi per lui per la sua famiglia per le sue intenzioni immaginate che impressione dava una bimbetta di appena sei anni dopo questo ordine del professore la bambina viene trasportata in ospedale per le ultime cure mediche il tumore purtroppo è molto avanzato le comprime il petto tanto che le sposta il cuore le metastasi sono diffuse in tutto il corpo bisogna intervenire perché quantomeno non soffo non saranno interventi risolutori ma saranno interventi che eviteranno conseguenze immediate in ospedale Nennolina ci va accetta non è entusiasta ma accetta e dice la mamma che prega e soffre alle infermiere che venivano per medicarla sorrideva assainamente e aveva sempre parole dolci per tutti ringraziava per ogni piccolo servizio la mamma era colpita da tutto questo era colpita anche dalla sua sanità dalla sua pace e non capiva non capiva se la bimba soffrisse o meno anzi a un certo punto pensò che non sentiva più niente al di là di quanto dicevano alcuni e racconta sempre la mamma che un giorno tra l'arrabbiata il disperata l'incuriosita la risentita ecco va dal medico di turno e dice dottore mi deve togliere una curiosità la prego sia sincero ma mia figlia sente dolore perché la vedo sempre sorridente e serena dottore io non ci credo che soffre mi dica la verità il medico la guardò con severità quasi rimproverandola ma cosa dice signore signore i dolori di sua figlia sono atroci la mamma rimase turbata ebbe quasi il rimorso per aver dubitato e tocco con mal la santità di questa figlia la santità di Dio partecipata a questa figlia che offriva che offriva tutto al suo Dio per amore e non si lamentava allora lei stessa lo racconta si mise a piangere le venne un terribile rimorso per aver dubitato della sua bambina e corse verso la sua bambina corse verso il letto e la sua bambina si inginocchiò l'abbracciò e le disse Antonietta Antonietta benedici la tua mamma Antonietta benedici mamma tante volte era stata lei a benedire la sua piccola Nennolina adesso chiede che Nennolina riflesso la santità di Dio la benedica e racconta che Nennolina con uno sforzo uscì la mano da sotto le coperte e fece un segno di croce sulla fronte della sua mamma come tante volte la mamma lo ha fatto con lei le sorrise e li chiuse gli occhi per riposare la santità di Nennolina si nota si tocca con mano a Dio come fonte ma immediata come dicevamo dall'educazione cristiana che ha ricevuto da educatori e da genitori anch'essi anelanti alla santità adesso vediamo papà mamma l'abbiamo un po' vista in azione chiamo papà cosa fa quest'uomo nei confronti alla sua bimba accanto alla mamma c'è lui è sottinteso e quando vede che la sua bimba si va aggravando pensa che sia opportuno che riceve il sacramento dell'unzione degli infermi prega per avere le parole giuste da rivolgere ad Antonietta un giorno si avvicinò al letto della figlia e le chiese Antonietta sai cos'è l'olio santo rispose la bambina il sacramento che si dà ai moribondi conosceva ben il catechismo la piccola Antonietta il padre per non spaventarla le disse che aveva ragione però sai disse pure tante volte porta anche un po' di salute fisica a questa risposta Antonietta disse papà è troppo presto il papà non parlò più con le lacrime agli occhi si allontanò dopo qualche ora si avvicina il sacerdote che la seguiva ripreso un po' il discorso del papà però questa volta non parlò a nennolina di guarigione fisica che poteva arrivare parlò dell'effetto fondamentale dell'unzione che è l'aumento della grazia di Dio nella vita del cristiano a queste parole Antonietta cambiò idea quando sentì che col sacramento e l'unzione sarebbe aumentata la grazia di Dio disse allora lo voglio gli fu amministrato subito dopo in un contesto di profonda preghiera e di commossa partecipazione Nennolina risposta a tutte le domande e formò tutte le preghiere previste poi porse le sue manine aperte al sacerdote perché le ungesse e il rito si concluse baciando con trasporto il crocifisso che il ministro di Dio gli avvicinava alle labbra ormai Nennolina si prepara ad andare verso il cielo è stata poco su questa terra ma vissuta intensamente è pronta per volare verso il cielo il 3 luglio del 1937 di mattina presto il papà si avvicina alla sua bambina le avvicina le sistema il cuscino poi la bacia agli occhi chiusi ma era aveva gli occhi chiusi ma era sveglia con un filo con un filo di voce disse queste parole Gesù Maria mamma papà il padre rimase un po' stranito però continuò ad osservarlo a un certo punto Nennolina aprì gli occhi e fissò il suo sguardo innanzi a lei come se vedesse qualcuno di importante e sorrise in quella direzione il papà era stupito la mamma si stava pure avvicinando e guardavano questa bimba che sorrideva innanzi a sé poi un ultimo lungo respiro e chiuse gli occhi per sempre a questo mondo chi vide innanzi a sé dopo il bacio di papà perché sorrise mentre la mamma l'accarezzava forse vide un'altra mamma la Madonna che era venuta a prenderla per portarla in cielo accanto a quel padre quel figlio quello spirito santo quegli angeli e quei santi ai quali aveva indirizzato le sue letterine la notizia si diffuse velocemente in poche ore moltissimi amici compagni d'asilo accompagnati dalle suore e conoscenti si recalono in casa meo per vedere per l'ultima volta il viso provato dalla malattia e rassainato dalla grazia di questa bimba santa forse la prima santa di appena di quasi sette anni che non è morta martire l'indomani la piccola bara bianca circondata da un mare di persone accompagnata dai monaci cistercensi e dai le bambine e l'azione cattolica entrò in chiesa per il funerale entrava santamente morta nella chiesa dove quasi sette anni prima era stata battezzata si realizzava la vocazione del battesimo battezzati per essere santi apostoli e Nennolina in meno di sette anni realizzò tutto l'azione l'azione di l'azione di